Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ecco, non so, ma il mio Big Bang dice che sono le 15. Sì, sì, io direi di sì. Ecco, dimmi Daniele se invece il mio è già attivo. Allora possiamo andare. Possiamo andare, appunto, come dicevo, ieri abbiamo visto la prima parte di questa nostra chiacchierata su Salinger, in cui abbiamo parlato proprio degli inizi, non solo della sua vita, della sua vicenda personale, ma anche della sua vicenda come autore, lui che durante la guerra non ha mai smesso di scrivere, di scrivere racconti. Sarà la sua vera specialità, racconti che hanno più o meno successo, racconti che lui insistentemente propone. Il New Yorker è forse una delle riviste letterarie più importanti d'America. E siamo arrivati nel 1945, quando per l'ennesima volta il New Yorker gli rifiuta un racconto. Il racconto si intitola The Stranger, pubblicato da Colliers. È il terzo e ultimo racconto di quella famiglia Greg Waller, di cui ieri abbiamo visto altri due racconti pubblicati. Qui l'amico del protagonista, un certo Vincent Caulfield, vedete che quel cognome Caulfield rimarrà uno dei preferiti di Salinger, tanto che il cognome di Olden, del giovane Olden. L'amico Vincent Caulfield è stato ucciso durante un combattimento, durante la guerra e il suo amico Babe torna a casa a New York e deve andare a trovare la ragazza dell'amico per portargli quello che il compagno d'armi ormai ucciso prima di andare in battaglia gli aveva consegnato, cioè delle poesie dedicate proprio a questo suo amore rimasto in America. E questo è ancora un rievocare una vicenda personale di Salinger, Salinger che era un po' il ghost writer, cioè quello che scriveva le lettere d'amore alle varie fidanzate per i suoi commilitoni e che si faceva carico, diciamo, un po' di tenere questo contatto epistolare con le tante donne che aspettavano il rientro dei loro ragazzi. Poi sempre su Collier's nel numero del 22 dicembre di quel 1945 compare anche un altro racconto, I'm crazy, sono pazzo, che è un po' in nuce la storia poi del suo romanzo, cioè il giovane Olden. Anche qui si parla in prima persona e racconta di un vecchio professore, il professore Spencer, che è stato espulso dalla scuola e questo giovane sta rientrando a New York in treno e trova a casa sua le sorelle. Alla fine però non verrà più rispedito a scuola, ma il padre ormai nervosito dal suo comportamento gli imporrà un barboso lavoro d'ufficio. Anche qua mezzo autobiografico tutti gli scrittori lasciano sempre un po' di autobiografia nei loro scritti, anche qui riecheggia un po' questa insofferenza per gli studi che Salinger ebbe fin da subito. Scappava di casa facilmente quando litigava perché la madre gli diceva di fare i compiti e lui non voleva e questi suoi abbandoni frequenti anche dell'università, anzi abbandonerà definitivamente l'università, avevano portato il padre a spedirlo in Polonia a curare i prosciutti, cioè l'allevamento di maiali che la sua azienda aveva in Polonia per poi farne prosciutti per l'esportazione. E quindi appunto Salinger dovette fare anche questo tipo di esperienza. Ma poi finalmente arriva il grande giorno, il 21 dicembre del 1946, quindi un anno dopo quel racconto, finalmente il New Yorker accetta un suo racconto. Il racconto per la verità, l'abbiamo accennato ieri, è un racconto vecchio che il New Yorker aveva già accettato nel novembre del 1941, ma poi appunto doveva apparire sul New Yorker del numero di Natale del 1941, ma proprio nel dicembre del 1941 era scoppiata la seconda guerra mondiale anche per gli americani, cioè c'erano stati i fatti di Pearl Harbor e l'entrata in guerra e quindi era stato accantonato. E questo racconto che si chiama Slight Rebellion of Madison, cioè piccola ribellione dalle parti di Madison, questo racconto ha ancora come protagonista uno studente che è Holden Caulfield, che diventerà chiaramente il protagonista del giovane Holden appunto. E qui cerca di convincere a tutti i costi un'amica, Sally, a scappare via, lontano da New York, a scappare con lui. Vuoi sentire, Sally, come faremo? Ecco la mia idea. «Prenderò in prestito l'auto di Fred Harsley e domani mattina andremo in macchina fino in Massachusetts o nel Vermont o lì in giro. E vuoi vedere? È bello, eh? Voglio dire, è meraviglioso lassù, tanto è vero il Dio, ce ne staremo in un campeggio o qualcosa del genere finché non finiremo tutti i soldi». Ma la ragazza, nonostante queste offerte, rifiuta quella che ai suoi occhi è soltanto una pura fantasia. Così Holden, mezzo ubriaco, dopo aver ricevuto lo stesso rifiuto anche da un amico con cui fa la medesima proposta, rimane da solo a piangere all'angolo di Madison Avenue, aspettando che arrivi l'autobus. Salinger aveva trascorso dieci anni di umilianti rifiuti prima che il New Yorker decidesse finalmente di pubblicare un suo racconto. Quindi sembrava per lui l'inizio di una folgorante carriera, ma c'è da dire che questo suo racconto passò completamente inosservato. Il New Yorker diventò il settimanale autorevole che conosciamo soltanto a partire dagli anni 30. Infatti i primi numeri del settimanale erano andati talmente male che l'editore voleva già chiudere. Sarà invece grazie alla collaborazione dei migliori intellettuali, non soltanto americani, che la rivista diventerà una tra le più importanti voci del panorama culturale americano. Tra i suoi collaboratori ci sono tanti nomi illustri. Francisco Fitzgerald per primo, William Butler Heats, Anna Arendt, Louis Borges, Isaac Singer, Woody Allen, Vladimir Nobokov, Truman Capote, che anticipa parte del reportage su un caso di pluriumicidio nel Kansas, proprio sulle pagine del New Yorker, e come sapete da quei reportage nascerà il suo più famoso romanzo, A sangue freddo. E si deve quindi al New Yorker se un giovane scrittore all'epoca sconosciuto, di nome appunto J.D. Salinger, trovò un editore interessato a quel racconto che poi diventerà un capitolo del giovane Olden. Quello stesso anno Salinger trasmise alla rivista 90 pagine di un manoscritto su Olden Coalfield, che venne anche accettato per poi essere pubblicato, ma stranamente Salinger lo rivolle indietro e durante i successivi cinque anni pubblicherà tantissimi altri racconti, tutti legati a una famiglia, la famiglia Glass, dimenticandosi completamente di quel manoscritto relativo a Olden. Dopo aver scoperto in prima persona le atrocità naziste, come abbiamo detto ieri Salinger, sarà tra le prime truppe americane ad entrare in un campo di concentramento, a vedere in prima persona appunto le atrocità che gli si erano perpetrate, lui, rampollo di una famiglia ebrea, alto borghese di Manhattan, privo da sempre di qualsiasi preoccupazione economica e con una vaga idea di diventare magari forse un attore, nel 47 e nel 46 viene finalmente congedato. Ma all'atto del congedo, come avevo detto, si era fermato un anno in più dopo la fine della guerra a fare l'opera di denazificazione proprio lì in Germania, dove aveva trovato quella giovane ragazza che poi aveva sposato, ma proprio dopo il congedo viene ricoverato alcune settimane in ospedale, un ospedale psichiatrico a Norimberga, per quello che allora ma ancora oggi viene definito disturbo post-traumatico da stress. È quello che ha inciso più violentemente che sul corpo, ma sull'anima di tanti soldati che hanno vissuto la brutale esperienza della guerra. Dal 1940 Barnett, il suo editore e scopritore della rivista Story, lo continuava a pungolare perché diceva basta scrivere racconti, è l'ora che tu, se vuoi fare veramente lo scrittore, scrivi, è l'ora che tu scriva un romanzo. Ma nel 1942 chiaramente Salinger era partito per la guerra, Barnett era sempre più impaziente, voleva a tutti i costi un romanzo. Lui però si sentiva soprattutto scrittore di racconti, il taglio del racconto era il suo taglio preferito, del resto uno degli idoli di Salinger, uno dei modelli di Salinger è il grande Scott Filgeral e anche Scott Filgeral, nonostante i suoi bellissimi romanzi, è stato un grande produttore di racconti. E quindi Salinger, alle insistenze di Barnett, propone di costruire un libro proprio mettendo insieme tutti i racconti che ha scritto. Nel marzo del 1944, quindi ancora in guerra, ne ha messi assieme un po' da creare i primi sei capitoli di questo romanzo. e il Barnett dice che questa antologia di racconti potrebbe servire a farlo conoscere come scrittore al grande pubblico, anche se poi per avere successo dovrà mettersi di buzzo buono a scrivere un romanzo. Intanto, chiaramente una volta dimesso dall'ospedale psichiatrico di Nuremberg, Salinger ritorna, ritorna in America insieme alla sua moglie tedesca. Ma l'uomo che tornava in America, ma soprattutto a New York, non era assolutamente più lo stesso uomo. Poco dopo essere tornato negli Stati Uniti, Barnett gli dice che quell'idea dell'antologia non può più finanziarla. Il progetto è un vero e proprio fallimento e forse a causa di quel rifiuto, di quell'ulteriore rifiuto, il rapporto tra Salinger e Barnett finirà per incrinarsi quasi definitivamente. Ma quello che va a pezzi è soprattutto il suo matrimonio, che soltanto dopo otto mesi è già fallito. Nel maggio del 1946, Salinger, con il panino e il cappuccio del breakfast, fa trovare alla moglie in questa cucina deserta, dove lui se n'è già uscito, vicino alla brioche c'è un biglietto aereo per il ritorno in Germania. E chiaramente Silvia, la moglie, se ne ritornerà. Nel gennaio del 1947, quindi, si ritrova di nuovo single, ha 28 anni e propone al New Yorker un racconto che si intitola The Banana Fish e fu accolto con un certo interesse da William Maxwell, l'editore del New Yorker, e da tutto il suo staff, anche se il senso di quella storia così strana fu giudicato quasi del tutto incomprensibile. Maxwell, quindi, suggerisce a Salinger di fare una certa riscrittura del racconto, di aggiungere qualche personaggio, degli elementi che possano un po' far capire meglio la vicenda. E Salinger sistemò la storia diverse volte durante tutto il 1947, ridandogli anche un titolo. Il titolo diventerà A Fine Day for Banana Fish, un giorno ideale per i pesci e banana. Ma perché questo racconto possa vedere la pubblicazione, bisognerà aspettare ancora un po'. Intanto nel maggio del 1947, su una rivista femminile, che già dal titolo si capisce è Mademoiselle, pubblica un racconto, A Young Girl in 1941, una ragazza del 1941, senza giro di vita, no waste at all. Un racconto che poi non comparirà più in nessun'altra antologia. È interessante, perché in questo racconto c'è il protagonista, Ray, che sembra la prima versione di quel Seymour, che sarà il protagonista proprio di A Perfect Day for Banana Fish. I ragazzi e il loro linguaggio sono l'occhio critico. La struttura narrativa è il veicolo che ci proietta in un mondo che ci ricorda per l'inquietudine e la tenerezza proprio il mondo di Francis Scott Fitzgerald, come dicevo, uno degli autori prediletti da Salinger. Ritornato comunque ormai stabilmente in America, lasciata la moglie tedesca, Salinger ricomincia una fitta corrispondenza con quell'amico che aveva conosciuto a Vienna, Hartog. Ormai lui è Jerry Salinger all'inizio di una promettenta carriera di scrittore e l'amico è Dan e lavora nell'import-export alimentare. Ma poi anche quella corrispondenza finirà così come era cominciata e non abbiamo nessuna traccia di quelle lettere perché Hartog, su consiglio di Salinger, bruciava sistematicamente ogni lettera dopo averla letta. Su un numero di dicembre del 1947 della rivista Cosmopolitan appare poi La foresta capovolta, innesimo romanzo che quando comparve nel 1947 non suscita grande emozione, ma nel marzo del 1961 Cosmopolitan lo ripubblicherà e a questo punto sarà un vero e proprio caso anche perché nel frattempo Salinger era diventato uno scrittore famoso con il suo romanzo. Allora fu descritto questo racconto come un vero e proprio romanzo breve, è lungo circa 30.000 parole e fu una pubblicazione un po' sperimentale per il direttore di Cosmopolitan che era Arthur Gordon. Gordon lo stampò come una specie di supplemento separato alla rivista, rivista che lo pubblicizzava come uno dei migliori esempi di narrativa contemporanea. Purtroppo molti pochi lettori capirono il racconto, Gordon addirittura fu sommerso da lettere di protesta e da quel momento in poi lui e la sua rivista rifiutarono di pubblicare qualsiasi romanzo o racconto in cui la trama non fosse molto chiara e definita. Ma come a dimostrazione che il suo destino lo aveva chiamato a compiti molto più alti, i rapporti di Salinger con queste riviste patinate diventeranno ben presto molto tesi, sospettosi più di quanto lui non ne avesse avuto in passato. Lui era un vero professionista e queste riviste gli chiedevano fin troppe complicazioni, troppi compromessi. Da questo momento in poi Salinger comincia a litigare sistematicamente con tutti i direttori che si rivelano sempre e immancabilmente agenti di uno sfruttamento commerciale dell'ingegno. Per lui la santità dell'artista che lui voleva proprio personificare si ergeva proprio contro l'opportunismo parassita di tutti questi intermediari del mondo letterario che vivevano sulle spalle dei creatori d'opera. Questi anni comunque, tra il 1940, quando lui aveva solo 21 anni, e il 48, quando già ne aveva 29, furono un vero e proprio noviziato per Salinger dal punto di vista letterario. Come abbiamo visto sfornò due dozzine di racconti riuscendo a venderli quasi tutti a riviste popolari o a magazine patinati, avendo anche un buon riscontro finanziario. Ma Salinger detestava le illustrazioni, le illustrazioni che gli editori delle riviste invece mettevano sempre a contorno dei suoi racconti. A lui sembrava che qualsiasi immagine fosse come una specie di interferenza nel suo lavoro e per questo motivo era sempre più spinto verso il New Yorker che giudicava molto più rispettoso nei confronti degli autori. Verso la fine degli anni 40, Salinger diventò un entusiasta seguace del buddismo zen, al punto che dava delle liste di lettura sull'argomento a tutte le ragazze che incontrava o con cui si vedeva. Chiaramente era un entusiasto anche di quel ciclo di conferenze che tenne nelle università americane uno studioso buddista di fama internazionale che nonostante tutto si chiamava Suzuki. E anche se proprio in quel 1948 accadono due cose che segneranno sempre per sempre il suo futuro, questa influenza che incomincia a far capolino nella sua anima del buddismo, del buddismo zen soprattutto, sarà un qualche cosa che lo cambierà profondamente. Nel 1948, dicevamo, accadono due fatti importanti. Intanto il New Yorker finalmente pubblica un giorno ideale per i pesci banana che sarà un successo clamoroso e poi un produttore cinematografico Samuel Goldwyn acquista i diritti di un suo racconto per farne un film. Un film che però verrà completamente massacrato dalla critica. Ma andiamo un po' per ordine. Il New Yorker non pubblica foto, non commenta con ritardo di mesi i fatti più importanti, ma parla di politica, di cronaca, di sport e in copertina mette illustrazioni a colori che non hanno niente a che fare con i servizi che sono all'interno. Servizi che possono essere lunghi, anche 30-40 pagine l'uno, letture a volte impegnative, intervallati da minuscoli disegnini del tutto estranei a qualsiasi argomento, titolati in modo che non si capisca di che cosa trattino. Eppure il New Yorker è considerato il vero paradiso per ogni scrittore, per ogni giornalista, disegnatore e di conseguenza anche per ogni lettore americano. Vi appare sempre la migliore narrativa, i reportage più acuti e brillanti, le vignette più intelligenti, l'umorismo più sofisticato. E vi regna anche una regola non scritta. Nessuno è mai costretto a scrivere su un determinato argomento se non se ne sente stimolato o se non ne ha voglia. Passione, rigore intellettuale morale, ossessione per l'accuratezza sono i segreti di questo suo prolungatissimo successo. Entrare nel New Yorker insomma significa diventare membri quasi di una casta privilegiata, essere qualcosa di speciale. Il suo mitico direttore fu William Schoen che lavorò a New Yorker per ben 54 anni. Cominciò nel 1933, lasciò il suo posto a malincuore nel 1987 quando fu costretto letteralmente ad andare in pensione. Schoen pagava bene i suoi scrittori e giornalisti ed era capace anche di aspettare un servizio per mesi, addirittura forse per anni. E come ho già detto, Salinger inviava i suoi racconti a New Yorker che per tanti anni glieli rifiutava sistematicamente. Fino a che non pubblica le prime cose le sue storie iniziano ad essere molto chiacchierate. Quando alla fine i redattori del New Yorker si videro arrivare i primi racconti di Salinger rimasero letteralmente a bocca aperta perché una scrittura di quel tipo non si era realmente mai vista. È da un anno che Salinger ha proposto questo suo racconto breve ed ha il titolo già parecchio strano Un giorno ideale per i pesci banana. E lui non ci spera neanche più nella pubblicazione. Invece il 3 gennaio del 1948 il racconto viene pubblicato e ottiene, come dicevo, un immediato successo. La storia racconta di una giovane coppia Muriel e Simul Glass durante una vacanza in Florida. È la prima storia che coinvolge la famiglia Glass che ritroveremo in tanti altri scritti del nostro autore. Nella prima parte c'è una telefonata tra Muriel e la madre che è preoccupata suppone che Simul il giovane marito di Muriel congedato dall'esercito dopo la seconda guerra mondiale la madre teme che non sia un soggetto adatto alla figlia che sia addirittura qualcuno di poco raccomandabile. Muriel, te lo chiedo per l'ultima volta stai bene? Mamma, disse la ragazza per la novantaseiesima volta sì, sto bene ma non vuoi tornare a casa da noi? Mamma, no! Tutta la telefonata è impostata in modo che il lettore non capisca dove finisca la mitomania della sua ocea e dove inizi la reale possibilità che in Simo ci sia realmente qualche cosa che non va. E poi si passa ad una lunga scena sulla spiaggia in cui un uomo reso irriconoscibile dall'esperienza della guerra senza nemmeno un nome che però chiaramente intuiamo sia lui Simor imbastisce uno stralunato dialogo con una bambina Sibyl come se lui fosse diventato il suo miglior compagno di giochi. Si alzò in piedi di colpo guardò l'oceano Sibyl disse sai cosa faremo adesso? Cercheremo di acchiappare un pesce banana Un cosa? Un pesce banana disse il giovannotto e sciolse la cintura dell'accappatoio si tolse l'accappatoio aveva le spalle bianche e strette le mutandine azzurre piegò l'accappatoio prima nel senso della lunghezza poi in tre parti srotolò l'asciugamano che si era messo sugli occhi lo stese sulla sabbia e videpose sopra l'accappatoio ben ripiegato si chinò raccolse il materassino e se lo mise sotto il braccio destro poi con la sinistra prese la mano di Sibyl e insieme si avviarono verso il mare immagino che ne avrei visti parecchi di pesci babana ai tuoi bei tempi disse il giovannotto Sibyl scosse il capo no ma si può sapere dove vivi? non lo so disse Sibyl ma si che lo sai devi saperlo per forza Sharon Lipschutz sa benissimo dove abita e ha solo tre anni e mezzo Sibyl smise di camminare strappò la mano da quella di lui raccolse una comune conchiglia la esaminò con elaborato interesse e poi la gettò via Wheelywood Connecticut disse e ripresi a camminare con lo stomaco bene in fuori Wheelywood Connecticut disse il giovannotto non è dalle parti di Wheelywood Connecticut per caso Sibyl lo guardò sì è lì che abito disse spazientita abito a Wheelywood Connecticut corse davanti a lui di qualche passo si prese con la sinistra il piede sinistro e saltellò due o tre volte su una gamba sola Sibyl taceva mi piace masticare le candele disse finalmente lo credo bene lo credo bene disse il giovannotto mettendo i piedi nell'acqua è fredda lasciò cadere il materassino no aspetta un momento Sibyl aspetta che arriviamo un po' più in là si spinsero avanti finché l'acqua giunse alla vita di Sibyl allora il giovannotto la sollevò la fece sdraiare sul materassino a pancia in giù resti coi cappelli così senza cuffia senza niente le chiese il giovannotto non lasciarmi andare ordinò Sibyl tienimi forte adesso signorina Carpenter la prego conosco i miei doveri disse il giovannotto tu devi solo tenere gli occhi bene aperti nel caso che passi qualche pesce banana questo è un giorno ideale per i pesci banana non ne vedo neanche uno è comprensibile hanno delle abitudini molto singolari molto ma molto singolari continuò ad avanzare spingendo il materassino l'acqua non gli arrivava al petto è una vita molto tragica la loro poveretti disse lo sai cosa fanno i pesci banana Sibyl Sibyl scosse il capo vedi nuotano dentro una grotta dove c'è un mucchio di banane sembrano dei pesci qualunque quando vanno dentro ma una volta che sono entrati si comportano come dei maiali ti dico so da fonte sicura di certi pesci banana che dopo essersi infilati in una grotta bananifera sono arrivati a mangiare la bellezza di 78 banane avvicinò di mezzo metro all'orizzonte il materassino e la sua passeggera naturalmente dopo una scorpacciata simile sono così grassi che non possono più venire fuori dalla grotta non passano dalla porta non troppo lontano disse Sibyl e poi cosa fanno cosa fanno chi i pesci banana ah vuol dire dopo che hanno mangiato tante banane che non possono più uscire dalla grotta bananifera sì disse Sibyl ecco mi rincresce molto di dovertelo dire Sibyl muoiono perché chiese Sibyl ecco gli viene la bananite è una malattia terribile sai c'è un'onda che sta arrivando disse Sibyl nervosamente faremo finta di non vederla la snobberemo disse il giovanotto due snob noi prese in mano le caviglie di Sibyl e spinse in basso e in avanti il materassino si rizzò sopra la cresta dell'onda l'acqua inondò i capelli biondi di Sibyl ma il suo strillo era pieno di gioia con la mano quando il materassino fu di nuovo immobile si tolse dagli occhi un lungo ciuffo bagnato e piatto e disse ne ho visto uno cosa hai visto amor mio ho visto un pesce banana santo cielo no disse il giovanotto aveva delle banane in bocca sì disse Sibyl sì ne aveva sei e Sibyl a un certo punto corre via e lui rientra in albergo e arrivato in camera dove Muriel si è addormentata nel letto si spara alla tempia destra è già il prototipo del racconto moderno dove una serie infinita di indizi rimandi tasselli ricompongono alla fine una storia lasciata più all'intuizione del lettore che alla narrazione vera e propria è un pezzo di realtà documentata e non interpretata è una specie di film e nel momento in cui Simol si suicida siamo tutti costretti a ritornare indietro a capire tutti i momenti che hanno preceduto quell'evento nella speranza appunto di trovarne anche una ragione il tema del racconto si basa si basa appunto su quella che veniva denominata stress post-traumatico alla fine degli anni 40 furono in gran parte un periodo di totale reazione agli orrori della seconda guerra mondiale con la nascita del cinema noir l'afflusso nelle sale di apocalittici B-movies nuove ondate di filosofie e teorie letterarie Banana Fish con la sua miscela inquietante di reale e di tragico di leggero e di catastrofico descrive quasi a mezza voce il dramma dei veterani che sono rientrati dopo la seconda guerra mondiale e Salinger ricordiamolo ancora una volta era proprio uno di loro il finale è scioccante inaspettato lascia senza parole ma per Salinger è il modo un po' per sottolineare come l'assurdità della guerra si insinui nella vita anche in tempo di pace quando sembra che tutto sia finito ma tutto riaffiora nella sua grande drammaticità Salinger scrive e descrive Simo quasi come una specie di profeta un uomo fin troppo saggio per la sua età forse più avanti del suo tempo e questo Simo lo troveremo nascosto tra le pieghe dei vari racconti e romanzi dove compare la famiglia Glass la storia dei pesci banana potrebbe servire quasi come una metafora per l'umanità in particolare per la generazione del dopoguerra quella del boom circondata da ricchezze che non può fare a meno di consumare e consumare a prescindere poi dalle conseguenze ed è significativo che Salinger dedichi tutta la prima metà della sua storia alla conversazione di Muriel con la madre una conversazione in cui il consumismo è quasi celebrato da entrambe insistendo sugli aspetti di quella società dei consumi fatta di pubblicità di riviste femminili di moda di cosmetici alla redazione del New Yorker nota per essere alquanto severa nei propri giudizi rimasero così impressionati dall'eccezionalità per qualità del racconto che i suoi curatori lo accettarono immediatamente per la pubblicazione addirittura fecero firmare a Salinger un contratto che concedeva loro ogni diritto di prelazione su tutti i futuri lavori dell'autore l'entusiasmo con cui Banana Fish fu accolto unito al fatto che a Salinger non piaceva affatto che i racconti fossero modificati da quelli che lui definiva i furbastri delle riviste patinate spinsero ancora di più Salinger a pubblicare quasi esclusivamente ormai da adesso in poi tutti i suoi racconti e i lavori sul New Yorker la decisione di Salinger di collaborare con lo staff del New Yorker segnò un avanzamento nella sua carriera che lo portò a entrare in quella ristretta cerchia di quelli che scrivano per quel grande giornale così cominciò a prendere la sua fisionomia di narratore molto attento ai dialoghi arguto allusivo e pieno anche di tensione continuò comunque a pubblicare racconti anche su quelle riviste patinate che lui andava ad abbandonare e soprattutto però quelle riviste che in America avevano ormai un grande seguito di lettori nel febbraio del 48 compare su Good Housekeeping il racconto A Girl I Knew una ragazza che ho conosciuto originariamente doveva chiamarsi Wien Wien Vienna Vienna ma la rivista come sempre preferì cambiare il titolo e questo incominciò a irritare non poco Salinger che non voleva che nulla della sua produzione venisse toccata la storia è una storia quasi autobiografica molto semplice una storia d'amore abbastanza particolare dove la parola amore non viene nemmeno mai scritta e il narratore è stato bocciato al college e mandato dal padre a Vienna per studiare il tedesco proprio quello che era successo a Salinger e chiaramente lì si innamora di una ragazza di una ragazza ebree nella Vienna che sta per essere fagocitata dal nazismo ma la ragazza chiaramente nel posto sbagliato nel momento sbagliato così la guerra scoprirà farà scoprire a tutti e due una triste realtà ma già nel numero del marzo del 48 compare un altro godibilissimo racconto di Salinger Uncle Wiggly in Connecticut ce l'ha su con Connecticut come vedete lo zio Wiggle del Connecticut è un lungo un lungo dialogo tra amiche le frustrazioni di una donna Eloise che soffre per l'incomunicabilità che ormai ha con il marito e che rimpiange invece un amico Walt che è scomparso che è morto in guerra il titolo della storia si riferisce a un episodio ricordato proprio da Eloise quando lei e Walt correvano disperatamente per acciuffare l'ultimo autobus e lei nel correre si sloga una caviglia Walt riferendosi alla sua caviglia da quel momento la prendeva in giro dicendogli povero zio Wiggly to wiggle in inglese significa proprio contorcersi slogarsi stortarsi e quindi lo zio Wiggly è il riferimento a quella situazione il personaggio principale come dicevo è Eloise fatica a venire a patti con la vita quella vita che ha creato per se stesso con il marito il suo vero amore è quel Walt fra l'altro membro della famiglia Glass che è morto che è morto in guerra e scrivendo questa casalinga infelicemente sposata Salinger sembra quasi domandarsi se tutti i matrimoni siano intrinsecamente condannati fin dall'inizio Eloise ha nostalgia della sua gioventù ma è proprio perché quei giorni rimangono così bloccati nel passato che lei li ha quasi idealizzati lei diventa così un po' il prototipo di quella generazione di mogli infelicemente sposate senza speranza nel futuro dove soltanto i ricordi sono l'unica via di fuga che le rimane scritto mentre era a Stanford in Connecticut appunto la storia offre spunti di interesse sulla descrizione della classe medio alta della società americana in quegli anni della post seconda guerra mondiale gli anni del boom anche per l'America in quel periodo sia l'americanismo assoluto che il materialismo sono diventati dei valori indiscutibili e Salinger cerca di mostrare le false illusioni di questo sogno americano la storia è molto minimale molto poco accade in realtà ma molto si legge e si intuisce tra le righe Salinger era affascinato da Hollywood vagheggiava da tempo di diventare come il suo mito Francis Scott figgera quindi anche uno sceneggiatore cinematografico poco dopo la pubblicazione del racconto su New Yorker vendette i diritti cinematografici a Samuel Goldwyn la vendita era molto redditizia economicamente e sembrava anche promettergli questa nuova carriera aveva ceduto però come succede spesso il controllo della sceneggiatura e del processo di creazione cinematografica alle penne di Hollywood e la storia in mano loro venne completamente trasformata stravolta in una melenza storia d'amore con l'immancabile lieto fine Salinger rimase inorridito dal risultato finale e anche se My Foolish Heart questo è il titolo dato al film ricevete addirittura due candidature agli occhi agli Oscar e andò molto bene anche al box office Salinger infuriato da quanto era stato stravolto il suo scritto da quel momento giurò che non avrebbe mai più permesso nessuna trasposizione cinematografica delle sue opere intanto sul numero di giugno del 48 del New Yorker compariva un suo racconto un racconto anche questo dal titolo strano come avete capito lui è abilissimo a dare dei titoli che già solo dal titolo ti colpisce perché questo ennesimo racconto si intitola Just Before the War with the Eskimos alla vigilia della guerra contro gli eschimesi una storia ancora sull'alienazione adolescenziale sul sentirsi rifiutati dal mondo la storia di Ginny e Selena che sono due ragazze delle superiori che vivono a New York due amiche che prendono un taxi di ritorno dal campo da tennis come tutti i santi sabato ma questa volta Ginny fa notare a Selena che è stufa di dover pagare il conto del taxi ogni volta che ritornano a casa e che dovranno per una volta dividere la spesa Selena spiacevolmente colpita da questa novità invita allora l'amica a seguirla a casa dove avrà modo di sdebitarsi dato che non ha ancora una volta i soldi con sé proprio mentre Ginny si guarda intorno nel salotto della casa dell'amica sopraggiunge in accappatoio il fratello di Selena Franklin ventenne che si è appena tagliato un dito facendosi la barba e due non si sono mai incontrati prima il loro incontro costituisce la maggior parte del racconto Ginny infatti comincia a fargli domande su tutto e le risposte del ragazzo sono di un disarmante sarcasmo perché dici che Joan è una snob chiese Ginny perché perché lo è come Cristo vuoi che lo sappia il perché sì ma voglio dire perché dici che lo è lui si volse con aria stanca senti le ho scritto otto porche lettere dico otto non ha risposto nemmeno a una che ha una Ginny esitò beh forse aveva da fare già da fare da fare come una porca formica ma c'è proprio bisogno di dire tante parolacce disse Ginny un bisogno porco Ginny rise è un pezzo che la conosci chiese quanto basta beh volevo dire le hai mai telefonato eccetera tutte quelle cose lì insomma non le hai mai hai telefonato beh scusa ma se non le hai mai e come facevo per Cristo non potevi disse Ginny non ero a New York e dove eri io io ero nell'Ohio oh all'università no quella l'ho mollata quindi eri militare ma no con la mano che teneva la sigaretta il fratello di Selena si battè sul lato sinistro del torace del torace il coso disse vuoi dire il cuore disse Ginny hai qualcosa che non va al cuore non so non so che cosa che non va da piccolo ho avuto la febbre reumatica un male da farti scusa ma non dovresti smettere di fumare allora voglio dire non bisognerebbe non fumare eccetera tutte quelle cose lì per il cuore il dottore ha detto a mio sì sì ti dicono sempre un sacco di balle i dottori disse lui si alzò e andò alla finestra guardò nella via grattandosi la spina dorsale col pollice guardali disse guarda quegli stronzi chi disse Ginny ma non so tutti se tieni il dito in giù sanguina molto più forte disse Ginny lui la sentì mise il piede sinistro sul sedile nel vano della finestra e appoggiò la mano ferita sulla coscia continuò a guardare nella via vanno tutti al porco distretto disse stiamo per entrare in guerra con gli eschimesi lo sapevi? contro chi? disse Ginny gli eschimesi apri le orecchie per Dio ma perché gli eschimesi? e che ne so come Cristo vuoi che lo sappia questa volta ci vanno tutti i vecchioni genti sui 60 anni non ci può andare nessuno se non ha almeno 60 anni disse gli scorciano solo un po' i turni di guardia di guardia attenti comunque tu non ci andresti disse Ginny senza voler dire altro che quel che era logico ma accorgendosi prima di aver finito di pronunciare la frase che non avrebbe dovuto dirla lo so disse lui in fretta e tolse il piede dal sedile alzò la finestra di un breve tratto e scaraventò la sigaretta nella strada poi si girò con la finestra per quel giorno aveva finito il mondo esterno improvvisamente sembra marciare verso un destino che non coinvolge nessuno dei personaggi di quel racconto ci sarà quella maledetta guerra con gli eschimesi ma loro i giovani staranno alla finestra a guardare le ridicole debolezze dell'umanità l'ultima immagine del racconto è quella di Ginny che si incammina giù per la strada dopo aver detto a Selena che va bene che non vuole nemmeno più i soldi per il taxi e fa pensare che Ginny con quell'incontro è cambiata per la prima volta si è interessata a una persona che fosse qualcosa di diverso da se stessa Salinger si dimostra ormai pienamente padrone del racconto della storia breve i suoi personaggi hanno qualcosa in comune sono stati alienati o rifiutati dalla società per motivi diversi anche qui anche qui è presente la guerra quando Franklin scherzando dice che un'altra guerra in arrivo sembra quasi alludere a quella che arriverà veramente la guerra di Corea che impegnerà l'America di lì a pochi anni e naturalmente Salinger non fa riferimento a quella guerra di Corea che quando pubblica il racconto nel 48 è ancora di là da venire ma ci fa riflettere ancora una volta sul fatto che le guerre vanno e vengono e che solo perché la seconda guerra mondiale è finita non significa che la pace sia lì per restare per molto tempo mi viene in mente sempre quando siamo in questo passaggio una poesia bellissima che vi invito ad andare a cercare di Raffaele Alberti la guerra che viendrà non è la prima cioè la guerra che verrà non è la prima e la poesia dice la guerra che verrà non è la prima ce ne saranno ce ne sono state molte prima e ce ne saranno molte dopo perché la guerra che verrà non sarà la prima ho sintetizzato fin troppo una bellissima poesia del poeta spagnolo Raffaele Alberti passiamo nel settembre del 48 e su Cosmopolitan viene pubblicato Melodia Triste è il racconto tragico di un cantante afroamericano di jazz ambientato anche qui durante la seconda guerra mondiale e in una serie di flashback di piglio cinematografico capiamo un po' la vicenda poi a marzo del 49 in New York pubblica un ennesimo racconto L'uomo che ride che ha la struttura di una storia nella storia che abbraccia il tema della fine della giovinezza è scritto in prima persona e quella che si legge è filtrato attraverso gli occhi di un bambino un bambino di nove anni con la sua consapevolezza molto limitata della vita dell'amore delle relazioni sentimentali è un espediente come in molta altra letteratura era già stato usato dal grande Mark Twain nelle avventure di Huck Finn in cui gli eventi e le istituzioni quelle familiari al lettore vengono descritti dal punto di vista appunto di un bambino la cui errata interpretazione di quello che lo circonda sembra quasi far riflettere a una verità più profonda il narratore è un uomo che guarda indietro alla sua infanzia nell'estate del 1928 quando aveva soltanto nove anni e partecipava ad una squadra di baseball il leader del club il capo era un giovane studente di legge alla New York University rispettato da tutta la sua squadra caricati su uno scuola bus i bambini andavano al parco a giocare a baseball e intanto il capo raccontava un episodio delle avventure dell'uomo che ride e sembra un classico romanzo di avventura l'uomo che ride è un figlio di missionari che è stato rapito dai banditi in Cina ha il volto deformato perché è costretto a indossare una maschera ma in compenso è molto atletico e ha la capacità addirittura di parlare con gli animali ma è un furfante un furfante intelligente ed astuto che i ragazzi vedono quasi come il loro eroe anche se è un malvagio che non uccide i suoi nemici e che si prende cura di chi lo aiuta fedelmente ma in questa strana storia a volte anche gotica si inserisce una ragazza Mary Hudson una studentessa di cui il capo è perdutamente innamorato che un giorno va ad assistere alla partita della squadra e nella finale della storia nella finale della storia che il capo sta raccontando ai suoi ragazzi l'uomo che ride viene ucciso con grande costernazione di tutta la squadra e anche però la storia d'amore con Mary sembra ormai definitivamente tramontata nonostante l'esperienza catastrofica del film tratto dallo zio Wigley in Connecticut Salinger alle prese con stringenti necessità finanziarie incaricò però il suo agente letterario di inviare anche quella storia ad alcuni produttori cinematografici per un potenziale accordo ma le case cinematografiche rifiutarono il racconto e quindi tutto fu abbandonato da quel momento il suo disprezzo per Hollywood fu viscerale e non concederà mai più i diritti di altre sue opere promessa da sempre mantenuta anche dai suoi familiari anche il giovane Holden non ha mai potuto vedere una versione cinematografica ma nonostante abbia deciso di pubblicare solo sul New Yorker il suo agente letterario riesce anche a piazzare altri racconti su altre riviste patinate nell'aprile del 49 Harper's Harper's Basile pubblica Down at the Dinghy Giù al Dinghy un racconto che aveva scritto più di un anno prima durante un soggiorno al lago nel Wisconsin qui sono in scena Sandra e la signora Snell due cameriere nella casa sul lungolago di Bubu Tannenbaum e stanno conversando in cucina Sandra quanto pare ha detto qualcosa in presenza del figlioletto della signora Tannenbaum che non avrebbe dovuto dire riguardo al padre che è un ebreo e Bubu arriva e la signora Snell la informa che il figlio è fuggito come fa spesso anche se tutti sanno che non va poi molto lontano così come erano le fughe da bambino di Salinger dalla sua famiglia bene disse la signora Snell ho saputo che Lionel è scappato di casa di nuovo e diede una breve risata l'intenzione certamente c'è disse Bubu e si infilò le mani nelle tasche posterioni meno male che non è scappato molto lontano disse la signora Snell con un'altra breve risata alla finestra Bubu cambiò leggermente posizione in modo da non voltare completamente le spalle alle due donne sedute a tavola no disse e si spinse una ciocca di capelli dietro l'orecchio aggiunse in tono puramente informativo e da quando aveva due anni che ha cominciato a tagliare regolarmente la corda ma non ha mai fatto molta strada se non sbaglio non è mai andato più lontano del mal nel Central Park almeno almeno in città saranno due isolati da casa nostra e la sua evasione meno lunga o più corta è stata fino al portone del palazzo dove abitiamo si fermò lì ad aspettare suo padre per dirgli addio le due donne sedute attorno alla tavola scoppiarono a ridere il male è il posto dove vanno tutti a patinare a New York disse Sandra in tono mondano alla signora Snell i bambini e tutti quanti oh disse la signora Snell aveva solo tre anni è stato l'anno scorso disse Bubu tirando fuori un pacchetto di sigarette e una bustina di fiammiferi da una tasca laterale dei pantaloni accese una sigaretta mentre le due donne la stavano a guardare con grande interesse un'ira di Dio c'era tutta la polizia di New York che lo cercava e l'hanno trovato disse la signora Snell lo credo che l'hanno trovato disse Sandra con disprezzo cosa credeva l'hanno trovato alle undici un quarto di notte a metà Dio mio febbraio mi pare non c'era più un bambino in tutto il parco solo malviventi credo un bel mazzo di degenerati di tutte le qualità e lui e lui se ne stava seduto sul pavimento del chiosco della musica e faceva correre una biglia avanti e indietro lungo una fenditura mezzo congelato e con una faccia santa madonna disse la signora Snell ma perché l'ha fatto cioè insomma ma perché diavolo era scappato Bubù soffiò un unico imperfetto anello di fumo contro un vetro della finestra un altro bambino che giocava nel parco quel pomeriggio gli aveva dato un'informazione priva di fondamento sei un puzzone almeno noi crediamo che l'abbia fatto per questo non so signora Snell è una faccenda piuttosto oscura ma è da un pezzo che fa così chiese la signora Snell cioè insomma è un pezzo che fa così ecco all'età di due anni e mezzo disse biograficamente Bubù cercò rifugio sotto un lavatorio nella cantina del palazzo giù nella lavanderia Naomi come si chiama una sua carissima amica gli aveva detto ho un verme nel mio termos perlomeno questa è la sola cosa che riuscimmo a tirargli fuori Bubù sospirò e si staccò dalla finestra con un lungo cono di cenere sulla sigaretta si avviò verso la porta di rete metallica farò un altro tentativo disse in maniera di saluto alle due donne le donne risero Mildred disse Sandra ancora ridendo alla signora Snell se non si decide a muoversi perderà l'autobus Bubù chiuse la porta dietro di sé Bubù esce di casa e va al molo Lionel è seduto nel gommone del padre e tra Bubù e il figlio comincia un dialogo che finisce con la resa del piccolo nelle braccia della madre che lo tranquillizza sul mondo la storia che originariamente si intitolava Killer e Dinghy davvero forse un po' troppo forte contiene ancora elementi chiaramente autobiografici anche Salinger come dicevo da bambino aveva l'apitudine di scappare di casa quando si doveva confrontare con il conflitto interiore e Salinger sembra sottolineare il tema della fuga Lionel sta fuggendo di fronte alle avversità e alle difficoltà della vita Lionel è un bambino sensibile deve ancora imparare che le persone possono dire cose che non sono necessariamente vere il racconto poi sfiora anche la questione dell'antisemitismo che era ancora abbastanza diffuso in America Salinger stesso da ragazzo frequentava le scuole private della middle class ed era stato vittima dei pregiudizi che i compagni di classe per lo più anglosassoni avevano ancora nei confronti degli ebrei Salinger ha comunque 30 anni e passa un periodo di vacanza in Florida allo Sheraton di Daytona Beach e qui incontra la 14enne Jean Miller che ricorderà ero seduta in piscina stavo leggendo cime tempestose e lui mi si avvicina e dice com'è Heathcliff quell'infatuazione non solo platonica per una ragazzina sembra degna di una storia alla Nabokov di Lolita nonostante gli avvertimenti di sua madre la Miller continua questo rapporto che consisteva in lunghe passeggiate sulla spiaggia e lo scambio di molte lettere l'amicizia durò 5 lunghi anni ma poi finì quando lui la piantò il giorno dopo il loro primo ed unico rapporto sessuale la Miller ricordando quell'esperienza diceva Jerry mi disse nel caso perdessi le mie tracce leggi soltanto i miei racconti racconti